Ispezioni, controlli e verifiche nel porto di Livorno per accrescere la sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia ambientale. Saranno quasi tre al giorno i sopralluoghi che verranno effettuati durante tutto il 2020 da un pool di enti e organizzazioni per ridurre il rischio di incidenti e infortuni. L'annuncio è stato dato nel corso del convegno organizzato dalla Regione Toscana e dal Comune di Livorno dedicato al progetto speciale sulla sicurezza nel porto e negli stabilimenti industriali nell'area portuale. Le istituzioni tutte stamani hanno dimostrato di tenere sotto grande attenzione il tema del lavoro e dell'ambiente, di monitorare la situazione e di avere gli strumenti per migliorare l'uno e l'altro. Naturalmente la precarietà del lavoro non contribuisce certo alla sicurezza. Qui si affrontano le grandi questioni che riguardano il futuro della Toscana, di Livorno, ma direi più in generale dell'Europa. Le ispezioni verranno effettuate nelle aziende, nelle banchine e sulle navi che operano nell'area portuale con l'obiettivo di aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro, migliorare la qualità dell'ambiente di lavoro, formare i lavoratori alle prime armi. Un campione di lavoratori sarà anche sottoposto a indagini sull'esposizione e fumi delle navi. Un po' ovunque, ma soprattutto a Livorno si deve sì parlare di lavoro che c'è, di lavoro che manca, di lavoro che deve essere trovato, ma dobbiamo anche parlare di qualità del lavoro. E per qualità del lavoro intendiamo un lavoro che consenta ai cittadini livornesi di andare in un luogo e poter esprimere il proprio talento e poter lavorare in maniera sicura. I controlli verranno effettuati da regioni toscana e dai comuni di Livorno e Colle Salvetti, ASLE, Ispettorato del Lavoro, ARPAT, Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, INAIL e dall'autorità portuale con la collaborazione della Scuola Sant'Anna di Pisa.